Torniamo in Italia, la Polizia di Stato proteggerà i servizi informatici dei comuni italiani contro gli atti di pirateria. Lo prevede un accordo sottoscritto con l'Anci, l'Associazione dei Comuni Italiani, e firmato dal capo della Polizia Pisani e proprio dal presidente di Anci, De Caro. Il protocollo prevede che le attività di tutela dei sistemi e dei servizi informatici critici verranno assicurate dalla Polizia Postale e in particolare dal Centro Nazionale Anticrimine Informatico. Ci sarà una sala operativa 24 ore al giorno e sarà il punto di contatto nazionale per la gestione degli eventi critici alle infrastrutture operanti in settori sensibili e di importanza strategica per il Paese.